Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Come avrete detto dal titolo Quest'oggi ragazzi vado a spiegarvi come faccio e come vanno fatti i nodi per i vari rig Ovvero Texas, Dropshot per le testine e qualche piccola variante Dunque mi raccomando ragazzi lasciate like, condividetevi, iscrivetevi al canale se non siete con iscritti Questo video lo faccio perchè ho visto che alcuni sbagliano certe cose E voglio aiutarvi Dunque mandate questo video ai vostri amici meno esperti E mi raccomando ragazzi passate anche da Twitch qua sotto che sto streamando quasi tutte le sere E vi aspetto anche lì Dunque direi di non perdere altro tempo e via con il video Dunque direi di non perdere altro tempo e via con il video Primo rig che andrò a fare è quello il Texas Mudatura Texas Lo stopper Che io di solito faccio in filo trasparente in modo da essere ancora meno visibile Come prima cosa andiamo a prendere un piume proiettili In questo caso io metterò un piume da 3 ottavi Seconda cosa amo Andiamo a prendere un amo Allora questo è un nodo che quasi nessuno vedo che fa Allora questo è un nodo che quasi nessuno fa e che è molto sbagliato Adesso vi faccio vedere perchè Invece di fare il solito nodo che sia magari Palomar Che comprende solo l'anello Prendiamo il nostro amo Facciamo quindi passare da sopra il filo Sull'occhiello In questa maniera qua Andiamo a creare un'asola diciamo Così Con le dita E iniziamo ad avvolgere attorno al gambo e all'asola In questa maniera qua Per 6-7 volte circa Ok Dopo prendiamo l'estremità e la facciamo passare dentro l'asola E tiriamo Ok bagniamo un attimo Ok facciamo passare tutto sul gambo del amo E questo è il risultato Vi spiego perchè Questa cosa va fatta Torniamo l'eccedenza ovviamente Allora Questa cosa No Questo Questo nodo qua va fatto Perchè se noi mettiamo Se facciamo un nodo tipo un Palomar Quindi si attacca qua C'è molta probabilità che il nodo scivoli Quindi l'amo vada un po' a destra e a sinistra E faccia quello che vuole Quindi non starà mai Sempre dritto Ecco Con questo nodo qua Oltre al fatto che sta sempre dritto E che Il nodo è comunque molto più protetto Perchè comunque è coperto bene dalla gomma Quando andiamo a mettere su E a stringere con il nostro stopper Che è necessario Andrà a formare questa forma qua Molto importante Perchè quando peschiamo a gomma E siamo sul fondo Farà questo effetto qua Ovvero stand up Starà stand up automaticamente E questo cosa facilita Ovviamente facilita Sia aumenta la catturabilità Perchè ha un movimento Più corretto Più naturale Tipo il gambero Ma quando arriva il pesce Aspira Prende bene l'amo Prende perfetto E se il rig è dritto L'amo sarà più o meno così Quindi È anche più facile Perdere il pesce E questo è il primo suggerimento Guardate adesso vado a prendervi una gomma Altra bella cosa che fa questo nodo È che essendo sul gambo più largo Aiuta ancora di più a tenere la gomma ferma Prendo la gomma La punto Così Vedete anche come si fa Arrivo alla fine Dove inizia la curva Faccio uscire Questo è il modo come si fa correttamente un Texas Faccio passare Perchè questa gomma è un attimo anche distrutta Quindi cerco di non distruggerla ulteriormente Ok La faccio passare Tac Faccio uscire dall'anello L'anello deve stare coperto Vado A puntare La gomma Ok Vado a puntare la gomma Facendo una piega Ed ecco qua Il mio punto Faccio scorrere Ed ecco qua L'innesco perfetto Vedete? Molto in linea Però quando è sul fondo Starà così Starà così Adesso c'è Il peso della gomma Che lo fa cadere Però quando arriva sul fondo Fa così Si appoggia così Arriva il pesce Che comunque è una posa Del gambro Quando sta con le chiele così Arriva il pesce Pam Preso diretto sul lamo Invece Sull'altro rig Che spesso viene fatto da molti C'è spesso e volentieri La probabilità Che Il pesce Se ne vada E abbia toccato male Secondo rig Dropshot Dropshot Un rig che utilizzo molto Adesso sto provando Ancora a fare una variante Però Non so dirvi Se meglio o peggio Però ve la faccio vedere Sto provando A fare un piccolo esperimento Allora Prima cosa Andiamo a prendere un amo Io qua come terminale Ho preso del boss Fluorocarbon del 16 Che ultimamente Sto utilizzando Mi dà Molte soddisfazioni Allora facciamo passare L'estremità Del nostro filo Dentro l'occhiello E lo riportiamo anche dentro Allora Se ci vedesse qualcosa Lo riportiamo dentro Per dietro Ecco Ci teniamo L'asola posteriore Perché se no Ovviamente Il filo esce Così abbiamo il filo Doppiato Adesso cerchiamo Di Decidere Quanto filo Ci serve Sotto E Facciamo Diciamo Un nodo palomar Quindi un nodo semplice Prendiamo L'asola Facciamo Un nodo semplice Ecco Con l'asola Che esce Da questo nodo Lo facciamo Passare Facciamo passare L'amo dentro Tiriamo un attimo Bagniamo Molto importante Ed ecco qua L'amo Adesso io In questi casi Per Farlo andare Bene Faccio questa cosa Butto dentro L'estremità Nell'occhialo del lamo Da sopra Tiro Ecco qua E adesso L'ho messo Perfetto E questa cosa La faccio Per proteggere Il nodo Che è la parte Più delicata Da eventuali Rotture Da grattare Da Denti di pesci Io poi Nel drop shot Per essere Molto più Simplificato E veloce Faccio questa cosa Prendo il filo All'estremità Faccio una Piccola asola E molti si chiederanno Perché fai un'asola Perché se io Volessi cambiare il piombo Normalmente Drop shot Dovrei tagliare Invece Taglio leggermente Che brutta Ok Normalmente Drop shot Dovresti tagliare Rendere più corto Eccetera eccetera Cambiare L'altezza Del rig Ok Con questo sistema Io Prendo un piombo Faccio Prendo l'asola Capo dell'asola Faccio passare La punta dell'asola Diciamo Dentro L'occhiello Del piombo Che sia Va bene Con tutti i piombi Sia quelli da drop shot Che non Se questo Ha girella Che gira Mannaggia Ok Faccio passare Dentro Il foro In questo caso Della girella E dopo Con l'asola Prendo il piombo Ok Faccio questa cosa qua Tiro In questo modo Il drop shot È pronto Perché Posso utilizzarlo E inoltre Mi sta Ottimamente in asse Perché Il filo Fa questa cosa qua Che quindi Prende la girella È molto appoggiato E quindi Stressa anche E quindi appoggia Molto di più Il carico di rottura E È più difficile Che si rompa Ma poi io dopo Basta che Spingo un attimo Tiro fuori l'asola E posso Aumentare o diminuire La grammatura Tranquillamente E questa è una gran cosa Che pochissimi Se non Solo io Faccio Adesso pochissimi Perché l'ho insegnato A qualche persona E si è accorto Che è molto più semplice Però Visto? Questa è la cosa Che deriva Dalla pesca al colpo È che ti permette Di essere più veloce In pesca Adesso vi vado A fare una variante Con il nodo A8 Ehm Rispetto al palomar Adesso prendo un altro Amo Però Stavolta lo prendo più grande Ok Ok Amo Filo Lo faccio passare dentro Come prima Ok Calcoliamo la distanza L'amo dal piombo Prendiamo Un nodo semplice Lo facciamo ripassare dentro Ok Prendiamo sempre l'asola Facciamo passare L'amo dentro l'asola Bagniamo E questo è il risultato Ultimamente sto utilizzando Questo metodo Qua Eccolo qua Amo Perfetto Prendiamo la nostra Prendiamo la nostra asola Prendiamo la punta Facciamo fare Facciamo fare un giro La punta sbucca Qua Ok La punta sbucca Un nodo semplice Questo Prendiamo la punta Di nuovo La rifacciamo Passare dentro Il piccolo Occhiello Formato Bagniamo Bagniamo E il gioco è fatto Tiriamo bene In modo da Farlo stringere Adesso vi faccio vedere I miei classici Nodi da testina Che molti mi chiedete Allora Vado a prendere una testina Faccio passare Il filo dentro Una volta In questa maniera qua Metto il dito in mezzo Che così vado meglio E inizio a fare degli avvogilmenti Sul filo Più o meno Mi fermo Sempre a 7 No Prendiamo la nostra Mita La facciamo passare Sulla piccola asola Che si è formata Vicino all'occhiello Tiriamo un po' Adesso si forma Quest'asola Sopra Sul Verso la canna Eccola qua Ok Una volta Prendiamo sempre La nostra estremità E Facciamo passare Dentro L'estremità Nell'asola Tiriamo Si va a formare Questo nodo qua Tiriamo Bagniamo Facciamo scorrere Io preferisco farlo con le mani In modo da intaccare Meno possibile il filo E Tiriamo Fino a stringere Ok Questo è il nodo Uno dei nodi più classici Tagliamo l'eccedenza Uno dei nodi più classici Fatti Per Legare A mie testine Che spesso viene Utilizzato per il Texas Ma è sbagliato Come vi ho fatto vedere prima E questo è il risultato Ok Andiamo a farvi vedere Il secondo nodo Per testina Il secondo nodo È il Palomar Ve ne ho già parlato Però vi ricordo come si fa Allora Facciamo passare dentro Facciamo passare fuori Che è quello del Dropshot Alla fine Estremità Con l'asula Facciamo un nodo semplice Ok Questa situazione qua Prendiamo l'asula Ed ecco qua Baglientino Ed è fatta Dunque mi raccomando ragazzi Lasciate like Condividete i video Iscrivetevi al canale Se non siete ancora iscritti Suggeritemi Che altri video fare Del genere E cosa vorreste vedere Dunque Direi che per questo video è tutto Ciao a tutti Iscrivetevi al canale Grazie a tutti.